senza indossare la mascherina pretendeva di restare sul treno sebbene il controllore più volte gli avesse intimato di scendere ma quando sono arrivati i carabinieri quello della mascherina si è rilevato il problema minore l'uomo aveva con sé arnesi per lo scasso sigarette di contrabbando alcuni coltelli ma soprattutto una catana di 50 centimetri è accaduto a bordo di un treno della circunvesuviana in partenza dalla stazione di poggio marino il convoglio proveniente da sarno e diretto a napoli aveva a bordo molti pendolari pronti a tornare a casa il capotreno ha intimato ad un passeggero di origini marocchine di 35 anni di indossare la mascherina anti covid e di esibire il titolo di viaggio l'uomo ha rifiutato l'invito causando tra l'altro un ritardo di 20 minuti a quel punto il capotreno ha chiamato i carabinieri che procedendo al controllo degli accertamenti hanno scoperto che era in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scarso e di mezzo chilo di sigarette di contrabbando a perquisizione continuate sono stati rinvenuti e sequestrati una spada di 60 centimetri e cinque coltelli a serramanico oltre ad una bici elettrica di dubbia provenienza che l'uomo aveva con sé il 35enne è stato denunciato a piede libero doveva rispondere tra l'altro l'interruzione di pubblico servizio ricettazione porto abusivo di armi l'uomo aveva con sé il l'uomo aveva con sé il l'uomo aveva con sé il